Sono Pietro Spica, un vittore, come si vede dalla maglietta, ho vissuto a Barcellona da anni, ho i figli che stanno in America, sono andati in Italia, hanno 18 e 12 anni e sono preoccupati anche loro per quello che avviene in questo vecchio bel paese, lo stivale. Sono venuto qui apposta dall'America per sostenere la sbarco il 26 giugno a Genova di un gruppo di mille persone che partiranno da Barcellona il giorno precedente e porteranno una idea come bisognerebbe avere sempre di solidarietà contro quello che sta avvenendo di promiscuo e stuporino in questo paese. Credo che sia una bellissima iniziativa che bisogna spingere, promuovere a cui bisogna aderire e magari partecipare. Quindi chi può vada a Genova il 26 o a Barcellona i giorni precedenti. Sono Pietro Spica e vi saluto. Grazie. 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 Grazie.